Era stata annunciata lo scorso venerdì e finalmente lunedì nel tardo pomeriggio la relazione tecnica di ANAS è stata depositata in Procura d'Arezzo. La documentazione riguarda il viadotto Puleto della E45 sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso. La consulenza è stata consegnata tramite un avvocato del Foro di Firenze negli uffici del Palazzo di Giustizia Aretino. Oggi i consulenti della Procura la valuteranno e non escluso che possano essere nominati altri periti. Tra le ipotesi c'è quella di iniziare subito i lavori di riqualificazione messa in sicurezza del viadotto, un'opzione che la Procura di Arezzo aveva concesso sin dal sequestro e valutare nello stesso momento una riapertura parziale controllata della E45 attualmente chiusa tra Val Savignone e Canidi.